eccoci qua siamo live fantastico oggi vi voglio raccontare qualche cosa allora il canale youtube calorifrancesco dove ci sono un paio di playlist importanti da sette anni a tenerife a concept group life si affianca questa nuova trasmissione rivista e corretta con vari brand nuovi come mtc moto tendenza creatività e mtc extension che poi non è altro che della stessa famiglia di sempre però cerchiamo di rinnovarci allora questo qui è il portale calorifrancesco dove verranno postate tutte quelle iniziative che già noi avevamo preso del covid ripartiamo ripartiamo se ce la facciamo col vostro aiuto sinceramente però i tempi sono talmente cambiati che adesso è l'ora di comunicare in un modo diverso noi di mtc cerchiamo di raccontare la moda la tendenza e la creatività ci stiamo organizzando nuovamente con delle interviste con carissimi amici che già abbiamo intervistato un paio d'anni fa e adesso andiamo a riprendere questo questo filone e quindi seguitici cliccate sulla campanella del canale youtube e poi tutti i social correlati li troverete direttamente sulla pagina di youtube ho contattato anche degli amici a tenerife per vedere che cosa sta succedendo quindi mettete molti like su questo video e compartite con i vostri amici che cercheremo di riprendere qui a tor belgata da mtc del nostro nuovo studio privato per andare in diretta mentre facciamo bene anche le persone perfetto ci vediamo alla prossima diretta ciao ragazzi ciao